Stefano Bollani, oltre a essere un formidabile pianista jazz e un interprete particolarmente eclettico, la sua musica spazia dalla classica al samba d'autore e chiama a improvvisare con il pubblico. Il suo talento è riconosciuto dai critici europei e americani che gli hanno conferito nel corso degli anni numerosi premi. In Italia è conosciuto anche per le sue incursioni nel mondo della radio, il dottor Genbe con David Riondino a Radio Rai3 e della televisione dove ha avuto grande successo con la trasmissione Sostiene Bollani Rai3. L'appuntamento è fissato per sabato 22 marzo alle ore 18.30. Gli incontri della Fondazione sono sempre gratuiti per partecipare è necessario prenotarsi al sito www.fondazionemirafiore.it Ritorna dopo 40 anni sui palcoscenici italiani una delle commedie più divertenti e rappresentate del mondo, Boing Boing di Mark Camoletti. Lo spettacolo arriva al teatro sociale Giorgio Busca di Alba sabato alle 21 e domenica alle 18 con grandi attori. Gianluca Guidi e Gianluca Ramazzotti in coppia per la prima volta in un duo esplosivo di grande comicità. Con loro recitano Ariella Reggio e la governante Tutto Pepe, Mario Barataswegui, Barbara Snellenburg e Sonia Bader. Biglietti da 20 a 26 euro per maggiori informazioni 073 35 189. Domenica la chiesa di San Domenico ad Alba ospita il vino nell'antico Egitto e il passato nel bicchiere. Si tratta di una mostra archeologica inedita e innovativa che attraverso la storia del vino indaga il periodo dell'antico regno all'epoca romana. L'esposizione a cura dell'archeologa egittologa Sabina Malgora mette in risalto tramite il tema del vino, il forte legame tra la cultura egizia e quella della nostra penisola. Inoltre ci sono due sezioni speciali, una dedicata alla mummia di epoca tarda e del suo sarcofago, mentre l'altra propone la ricostruzione in scala reale della tomba TT290 di Irenefer della necropoli del villaggio degli operai. La chiusura sarà il 19 maggio, gli orari di visita da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato dalle 10.22 e domenica dalle 10.19. Ingresso 5 euro per info 0173 35 833. Carasco festeggia anche quest'anno il ritorno della primavera con il tradizionale appuntamento al Teatro Salomone previsto per sabato 22 marzo alle 20.45. Salutiamo la primavera con danze, canti, musiche e poesie, il titolo della serata che si aprirà con una breve performance di Carasco Suite e la presentazione da parte di Bruno Tibaldi della Rondine, l'uccello per eccellenza legato alla primavera. Lo spettacolo continuerà con alcuni canti degli amici della banda seguiti dalle giovani danzatrici di Dance Art, coordinate da Cristina Surace e dai piccoli cantanti dell'oratorio, da un momento dedicato alla poesia e dalla chiusura affidata a Don Angelo. L'ingresso sarà libero. 22 e 23 marzo a Borgo San Dalmazzo, nell'area espositiva di Palazzo Bertello, si svolgerà la 14esima edizione di Un Borgo di Cioccolato, manifestazione ingresso gratuito organizzata dal Comune e dall'ente Fiera Fredda, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e l'Associazione Amici del Cioccolato. La manifestazione più golosa dell'anno, dedicata al cioccolato, al cacao, alle prelibatezze dolciari e alle eccellenze del territorio, osserverà i seguenti orari. Sabato 22 marzo, dalle 14 alle 22, domenica 23 marzo, dalle 10 alle 20. Durante la due giorni sarà possibile degustare il dolce prodotto e assistere ai laboratori di lavorazione, concerti e animazioni varie. Domenica si svolgerà inoltre il mercato nel centro storico. L'esposizione dei prodotti sarà accompagnata da laboratori di lavorazione e degustazioni spasse istituzionali, con informazioni sull'eccellenza artigiana e distribuzione di materiale informativo e aree riservate alla proiezione di filmati e di schede riepilogative sul tradizionale legame fra artigianato e territorio, simboleggiato dalla qualità e professionalità degli operatori. Il prossimo spettacolo dal vivo della stagione teatrale presso il cinema Teatro I Portici di Fossano è in programma sabato 22 marzo con la solita e gradita anteprima dalle 19.30, costituita dalla pericena che consiste in una degustazione biologica presso il foie del teatro a cura dell'agriturismo Orto del Piambosco di Fossano al costo di 5 euro. Dalle 21 a catturare l'attenzione sarà Antonio Cornacchione con il suo One Man Show dal titolo Cronache Sessuali. Dopo il rapporto Kinsey che svelò al mondo le abitudini sessuali degli americani negli anni 60, Cornacchione prova a scrivere un suo rapporto sulle abitudini sessuali degli italiani. Si parte dagli anni 70 per capire se la rivoluzione sessuale di quegli anni si sia compiuto e se abbia finalmente portato la felicità che prometteva. Si parte da questo per arrivare al racconto di varie storie che Cornacchione recita in prima persona. Il biglietto intero costa 20 euro ridotto 15. Maggiori dettagli si possono ottenere visitando il sito internet www.iportici.net E' un concerto spettacolo toccante quello di Orlando Manfredi in arte 2 mano sinistra che presenta From Orlando to Santiago sabato dalle 21 al Teatro Civico di Caraglio. Con Manfredi saranno sul palco Andrea Pacia Pagliardi al piano organo e synth, Stefano Micari voce basso e mandolino e Elvis Delia voce batteria e cacón. Nello spettacolo il cantautore e drammaturgo racconta il cammino di Santiago di Compostela con parole, immagini, musiche e canzoni composti appositamente per il progetto. Il biglietto intero costa 12 euro.